e bentornati amici di radio dream on fly radio dedicata agli imprenditori io sono sempre vostro Stefano e quest'oggi siamo in compagnia di Francesca Langellotti la nostra lady in Ferrari si di Vida Sicura Supercar ciao ciao a tutti buon pomeriggio a tutti grazie Steve nuovamente per l'invito un regalino poi è sempre bello vabbè con comitanza anche di domani insomma scherzo perché mi stai dando la donna vabbè comunque a parte tutto allora Francesca oggi andiamo un po' a parlare del 25 marzo che per molti non è una data che significa nulla per noi sì per noi sì perché il 25 marzo ritorneremo nuovamente con la stagione inizia la primavera quindi ritorniamo nuovamente con la guida sicura in pista lunedì 25 saremo presso motosport di Ottobiano in provincia di Pavia e dedicheremo l'intera giornata alla guida sicura ok perfetto quindi andiamo a fare un po' il assunto di quello che si farà che non si farà che si potrà fare che non si potrà fare ovviamente faremo la giornata dedicata l'intera giornata con la teoria in aula sempre il briefing teorico nel quale tratteremo tutte le argomentazioni della guida sicura gli argomenti tra cui la postura di guida in auto corretta la distribuzione dei carichi la frenata d'emergenza l'utilizzo della cintura di sicurezza lo slalom le traiettorie e le curve poi dopo di che dopo aver completato la teoria andremo poi direttamente in pista con tutti i 30 partecipanti circa e si troveranno la pista pronta per gli esercizi della guida sicura faremo lo slalom sia quello lento sia quello dinamico poi abbiamo la frenata d'emergenza con evitamento dell'ostacolo e anche poi la prova su skid car e poi molto importante anche alla fine della giornata viene rilasciato l'attestato della guida sicura che è valido per gli usi di legge e la sicurezza aziendale molto importante perché con questo attestato tutti i partecipanti poi possono inserirlo all'interno del loro curriculum vitae ed è riconosciuto dalle aziende che lo richiedono non è quella classica giornata che molti fanno vedere altre aziende e dicono vuoi guidare la Ferrari? Vieni da noi e guidare la Ferrari qua è un corso vero è un corso di formazione vero e proprio poi sì, noi siamo ovviamente l'unica scuola in Italia che durante lo svolgimento dei nostri corsi che siano sicura, che siano sportiva introduciamo anche l'utilizzo di supercar, in questo caso la Ferrari 430 per alcuni esercizi e poi anche per dei giri finali in pista ovviamente ci sta la parte emozionale ovviamente sì perché appunto diamo la possibilità di far provare a tutte le persone le persone scusate guidare una supercar e nel frattempo anche la possibilità di acquisire tutte le nozioni della guida sicura quindi è molto fondamentale insomma unendo il divertimento e la sicurezza una bella giornata tutti insieme assolutamente poi se c'è il sole che sta da Dio oggi c'è il sole sì, il 25 marzo sarà non lo so spero che ci sia il sole se no ci sarà perché ci siamo noi se no ci adatteremo anche di conseguenza assolutamente sì ovviamente tutti i corsi tutti gli esercizi sono seguiti dai istruttori ovviamente abbiamo istruttori qualificati professionali certificati abbiamo anche il nostro parco auto che mettiamo a disposizione di tutti gli allievi corsisti sì, saranno seguiti ovviamente guiderà ogni partecipante con a fianco l'istruttore di guida sicura molto importante perché le darà le giuste nozioni per fare al meglio anche l'esercizio poi un'altra cosa che volevo aggiungere dentro le auto noi introduciamo sempre mettiamo a disposizione dei partecipanti una camera car che utilizza questa camera car fa le riprese video mentre si guida dentro l'auto e anche da fuori anche audio fa quindi sì all'interno quindi puoi vedere quindi poi tu puoi alla fine della giornata ovviamente acquistare il video e portartelo a casa come anche ricordo della giornata e anche come guardando anche ciò che si è imparato nella guida sicura della giornata in pista assolutamente sì allora Francesca prima di lasciarci ti chiedo oltre 25 se ci sono già altre date magari chi non può il 25 se c'è già in programma qualcosa sì abbiamo aprile abbiamo il 22 che è sempre lunedì sì esatto ne abbiamo circa adesso perché incominciamo con la stagione meno male un al mese meno male un al mese circa sì assolutamente sì sì fino ad arrivare al mese più non ai mese più caldo ma più o meno più o meno fino a luglio fino a luglio ci siamo poi si riparta a settembre bene quindi a questo punto per informazioni per magari prenotare chi è interessato e tutto che fa? che fa? allora mi può contattare al seguente numero 347 79 13 763 oppure tramite mail francesca chiocciola guida sicura supercar.it poi se volete riguardare un attimino il programma ciò anche che facciamo visitare il sito su www.guidasicurasupercar.it poi abbiamo le nostre bellissime pagine facebook instagram guidasicurasupercar bene abbiamo detto tutto quindi ci vediamo tutti quanti insieme in pista il 25 marzo certamente grazie a voi buona giornata facciamo prendere il volo ai tuoi sogni sei su Radio Dream on Fly grazie a tutti